La bellezza e lo splendore di questo giorno nel quale celebriamo la solennità di tutti santi e che già ieri pomeriggio è stato motivo della nostra preghiera e della nostra gioia, qualche volta può venire in qualche modo offuscato da un'altra consuetudine in realtà recente. Recente anche se affonda le sue radici nella cultura celtica antica. Si tratta di una festa di cui si parla molto in questi tempi, la festa di Halloween. Devo dire che si tratta di una festa anzitutto un po' brutta perché gode della tenebra e dell'oscurità e nello stesso tempo anche gode di una certa mancanza di gusto. Si tratta anche di una festa piuttosto banale, banale perché tratta temi importanti come la morte con molta superficialità e si tratta anche di una festa a volte ambigua perché intreccia al grande tema della morte e della vita tratti di esoterismo, di magia, addirittura e di compresenza del maligno. E allora è bello, è motivo di soddisfazione vedere come in tante nostre comunità parrocchiali la notte della Vigilia dei Santi stia diventando e sia diventata una vera notte di festa in compagnia dei santi dove a quell'elemento di bruttezza che corrisponde ad Halloween fa riscontro invece una dimensione di vera bellezza. A quella dimensione di banalità che caratterizza Halloween fa invece riscontro un incontro con il senso vero della vita e a quell'elemento di ambiguità che caratterizza Halloween fa invece riscontro un annuncio della pienezza della vita e della vita vera. Ma non vogliamo semplicemente oggi attardarci su questo. Anche se è importante fare chiarezza e ricordare che certe consuetudini o tradizioni che si affermano al di là a volte di una apparente neutralità in realtà comunicano cose negative e che non fanno bene al cuore, all'anima e alla vita. Ma noi oggi fissiamo l'attenzione su ciò che invece costituisce lo splendore e la bellezza di questa giornata solenne, ovvero tutti i santi. Il che vuol dire che in questa giornata, come ci ha ricordato la lettura dall'Apocalisse, siamo invitati a contemplare quella moltitudine immensa che sono i santi, gli abitanti e i cittadini della Gerusalemme celeste, della città di Dio, della città della vera gioia, della vera pace, della pienezza della vita, dell'eternità. Oggi siamo invitati ad alzare lo sguardo per affondare il nostro sguardo là, in questa splendida città che è la città di Dio. E in questa città di Dio, dove abitano appunto i santi, noi abbiamo l'esperienza bellissima di toccare con mano come i santi siano nostri amici e compagni di strada, perché c'è un legame tra noi e loro. Noi ci rivolgiamo a loro e li sappiamo vivi in Dio. Loro pregano per noi e accompagnano il nostro cammino terreno. Paolo in una sua lettera dice che la nostra conversazione abituale è nei cieli. Sì, perché con coloro che abitano i cieli, cioè con coloro che abitano la città di Dio, noi possiamo entrare in conversazione, in dialogo, esperimentare la bellezza di questa amicizia che contraddistingue il cammino della nostra vita in comunione con questa città e con questi abitanti che sono i santi. In proposito, San Filippo Neri diceva così ai suoi ragazzi, ai suoi giovani, alla sua gente, a coloro che incontrava, guardate, noi dobbiamo fare l'abitudine di avere spesso tra le mani quei libri che cominciano con la S, San Domenico, San Francesco, San Giovanni Bosco, cioè San Filippo Neri raccomandava che si leggesse la vita dei santi proprio per fare memoria della loro presenza nella nostra vita, per entrare in dialogo di amicizia con loro e per sentirci richiamati a quello che è il nostro vero destino, la città di Dio. Ecco, noi oggi, contemplando lo splendore di questa immensa moltitudine che sono i santi abitanti della città di Dio, vogliamo prendere forse un impegno? Sì, quello di avere per le mani la vita di qualche santo proprio perché la vita del santo ci aiuti a rimanere in contatto e in conversazione con i santi perché la vita del santo ci aiuti a ricordare la bellezza della santità, perché la vita del santo ci aiuti a fare memoria di qual è lo splendore e la bellezza del nostro destino di eternità. Ma la lettura dell'Apocalisse ci ha parlato anche di un sigillo che è sulla fronte di coloro che abitano la città di Dio e questo sigillo è l'elemento che contraddistingue la vita del santo, ovvero, lo potremmo chiamare così, la gioia dell'amore. Abbiamo ascoltato la lettura di San Giovanni che si rivolge così ai cristiani e dice Carissimi, vedete quale grande amore il Padre ha avuto per noi così che possiamo dire di essere figli di Dio e lo siamo realmente. E' quel sigillo impresso nella vita del santo, quello di essere figlio di Dio e di vivere la gioia dell'amore. Quale amore? L'amore che Dio ha per lui e l'amore che lui cerca di avere per Dio. L'amore per il fratello e la sorella, la gioia della comunione, la bellezza di poter donare la propria vita. Ecco, la gioia dell'amore come il sigillo che è sulla fronte della vita del santo. Certo, di coloro che abitano la città di Dio, ma anche di noi che siamo pellegrini qua giù nella misura in cui la nostra vita partecipa di quella santità. Allora, oggi vogliamo ricordare che la santità vissuta qui è un anticipo di paradiso, che la santità vissuta qui è un'esperienza di pienezza di vita, che la santità vissuta qui è davvero la gioia dell'amore che abita nel nostro cuore. Non dimentichiamo in questa bellissima solennità l'immensa moltitudine con la quale siamo in comunione, in amicizia, in relazione che accompagna il cammino della vita. Non dimentichiamo il sigillo posto sulla nostra fronte che è la gioia dell'amore, la bellezza di una vita santa secondo Dio. Ma tutto questo ha a che fare poi con le realtà concrete del nostro mondo, col nostro cammino quotidiano. Giorgio Lapira, il santo sindaco di Firenze, diceva così Vedete, io sento spesso dire che per migliorare il mondo bisogna fare questo, bisogna fare quello, bisogna realizzare quest'altro. Io vi dico che per migliorare il mondo ci vogliono i santi, ci vogliono più santi. Il mondo migliora nella misura della nostra santità. E Madre Teresa che rifletteva sulla vita della Chiesa diceva spesso è vero nella Chiesa nella Chiesa vediamo anche delle oscurità che sono le nostre uomini e donne che le appartengono. Però è inutile dire è buio, è buio perché la luce non viene. Il buio si dirada nella misura in cui noi diventiamo luce perché accogliendo Gesù nella nostra vita viviamo la bellezza e lo splendore della santità. Ecco questa splendida solennità che ci porta a contemplare il paradiso e ci porta a ricordare quanto sia importante che nella nostra vita viviamo la santità ci ricorda anche che nella misura in cui davvero apparteniamo al Signore e la sua luce entra in noi noi diventiamo collaboratori preziosi e insostituibili per una nuova luce che può abitare questo mondo per una nuova bellezza che può abitare le nostre famiglie per una nuova bellezza che davvero rende migliore tutto e rende migliore tutti. Domandiamo la grazia che questo giorno possa essere per noi contemplazione del cielo ma nel momento in cui a contemplazione del cielo possa diventare anche il portare un pezzetto di questo cielo nel nostro mondo attraverso la santità della nostra vita. grazie a tutti i nostri